Chi sarà il primo cliente di Max Dupree? Lui ha parlato di un lottatore capace di rappresentarlo sia sulle sfilate della moda di Milano, Parigi e Berlino, che sul palcoscenico più importante del mondo del wrestling, Wrestlemania. Quindi si presume che sia un combattente di bel aspetto, molto carismatico. Che ne so, potrebbe essere qualcuno come Dol Ziegler? Oppure uno o entrambi gli amanti letali, i Los Lotarios? O qualcuno che arriva da NXT, tipo Grayson Waller? E se Max Dupree come suo primo cliente indicasse se stesso? Beh le ipotesi sono tante, io però voglio leggere le vostre, motivate, chissà, voglio scoprire anche se qualcuno riuscirà ad indovinare chi sarà questo nome. Quindi dita roventi qua sotto, scatenatevi!